Una bomba carta è stata fatta esplodere nella notte davanti al cancello d'ingresso dell'abitazione del sindaco di Rocca Piemonte in provincia di Salerno, Carmine Pagano. Il fatto è avvenuto intorno alle due. In casa c'erano alcuni familiari, ma non il primo cittadino che si trova fuori città. L'esplosione dell'ordigno rudimentale ha danneggiato il portone d'ingresso e quello interno dell'edificio in cui abita il primo cittadino. Danni anche ad una porta finestra di fronte. Fortunatamente non ci sono stati feriti. La deflagrazione ha svegliato i residenti di Corso Mario Pagano, dove si è consumato il presunto atto intimidatorio. Le indagini sono in mano alla Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere attive in quell'area di Rocca Piemonte. Tanti messaggi di solidarietà e vicinanza al sindaco Pagano e alla sua famiglia. Sono inorridita da tanta violenza e profondamente preoccupata, afferma il consigliere comunale del gruppo Rocca Futura PD, Luisa Trezza. Questo non è il volto di Rocca Piemonte. Forza e coraggio al sindaco e alla sua maggioranza. Sono certa che qualunque sia la matrice di questo atto, conclude, non si lasceranno intimidire e la loro azione sarà sempre ferma.